L'IRI ha origine in considerazione degli effetti della crisi epidemiologica sul comparto turistico regionale, considerato che la categoria turistica è quella che è probabilmente una delle maggiormente colpite da questa pandemia, soprattutto per la stagione passata. Ricordo che con la legge regionale 3, tutti noi sappiamo, al 2021, approvata da quest'Aula il 22 febbraio scorso, è stato previsto l'attivazione del voucher Turesta in Friuli, Venezia e Giulia, a copertura dell'esperativo all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre noti spenditi per sostituzioni ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa. Rileviamo che, come è stato sottolineato, anche ripreso in un dibattito sulla norma che abbiamo approvato in Aula l'ultima seduta, cioè sul multitasking, il voucher in questione è rivolto solamente al mercato regionale Friuli, Venezia e Giulia, cioè ai cittadini del Friuli, Venezia e Giulia. La regionale stagione estiva sarà caratterizzata ancora da una forte contrazione del mercato estero, perché passa tutto quello che vogliamo, ma sappiamo che ci sarà una mobilità probabilmente non così globale come il nostro mercato turistico di solito è abituato a ricevere, e quindi si baserà fondamentalmente sul mercato interno. Rilevato, e questo è il motivo dell'IRI, che molte regioni italiane già da diverso periodo hanno avviato, già da settimane, rilevanti campagne promozionali nei media nazionali, di diversi strumenti promozionali territoriali, come nel caso di fare esempio in regione Sicilia, regione Piemonte, ma regione Veneto, anche l'altro giorno c'era sui nostri quotidiani la pubblicità del Land of Venice, delle spiagge del Veneto. Ecco, interrogo l'assessore per conoscere qualsiasi tempistiche legate alla promozione dello strumento Turesta FVG. Abbiamo letto tutti, lunedì nel pomeriggio, che la Giunta ha approvato, deve aver approvato il regolamento, che però, dalle dichiarazioni dell'assessore, ci risulta abbastanza così complicato da comprendere, nel senso che va spiegato, nessuna struttura, nessun sistema attuale oggi riesce a capire cosa si parla, saremo certamente nel concetto del FAS Indi-Bessoi, che forse non è migliore in questo momento, chiudo, e tra l'altro la notizia che leggiamo dal comunicato sembra che poi comincerà a attuarsi da metà giugno si parlava, quindi nonostante l'approvazione dobbiamo ancora attendere. Grazie. Grazie, prego l'assessore Bini. Sì, prego l'assessore Bini. Modalità semplificate per l'accesso al voucher e modalità altrettanto semplificate e veloci per quanto concerne il rimborso regionale delle somme non riscosse da parte degli operatori turistici. Non era facile riuscire in questa operazione, che a livello nazionale richiede da parte di chi vuole usufruire del voucher l'utilizzo dello speed, del QR code, la dichiarazione relativa ad un ISEE inferiore ad un determinato limite, eccetera. Mentre non sono certi i tempi di rimborso per gli operatori turistici che devono inserire nei modelli F24 di pagamento delle imposte lo scorporo delle somme. Quindi un meccanismo abbastanza arzigogolato. Siamo partiti da lì per elaborare un modello che andasse proprio nella direzione opposta. Anche la collaborazione con il SEAL è risultata efficace e pronta. A giorni sarà presentato il sistema informatico, utilizzabile da tutti gli operatori turistici che aderiranno all'iniziativa. Il cittadino del Friù Venezia Giulia non dovrà fare nulla se non per notare la propria vacanza di almeno tre notti in una delle strutture aderenti, come ha sempre fatto, quindi tramite mail, piattaforme, telefono, eccetera. Sarà l'operatore turistico a verificare nella posizione informatico sulla base dei codici fiscali le disponibilità di fondi e adattuare poi la procedura. Ora si tratta di concludere l'iter, e siamo ormai agli sgoccioli, con l'adozione del decreto del Presidente della Regione, che emana il regolamento e che a seguito della pubblicazione del burlo farà entrare in vigore. Tutto avverrà entro il corrente mese di maggio. Quindi saremo pronti, come più volte affermato, a partire con l'operazione già con il mese di giugno, all'inizio. Per l'inizio della stagione estiva, c'è già stata un'interlocuzione con Promoturismo per l'avvio di una massiccia campagna di promozione. Ricordo che abbiamo messo a disposizione, innanzitutto ricordo che questa è una misura sperimentale, è la prima volta che si fa, quindi dobbiamo capire anche un po' quanto berrà di fatto. Abbiamo messo a disposizione un milione e mezzo, quindi siamo pronti per partire, grazie. Se prego, consigliere Jacopo. Sì, Assessore, visto che ha sottolineato il deposito dell'IRI, l'IRI non è un atto ispettivo per segnalare se l'aveva approvato o meno il regolamento, ma per capire se responsabilmente diamo attuazione ad un'iniziativa verso un comparto, quello turistico che ho detto che è letteralmente in ginocchio, l'IRI viene perché una serie di operatori, come lei ha chiesto anche a me se dall'annuncio della misura Turesta si vede concretamente l'avvio di questa iniziativa, perché nel frattempo, vede, io non voglio, ma mi sono così... Ho ritagliato alcune pagine, Trentino, Austria, i nostri vicini del Veneto che stanno inondando questo bibione con tutte le altre cose, ma non solo, l'annuncio della Sicilia che ha attivato i voucher per chi viene da fuori, non solo per il residente regionale come il nostro caso, perché noi sosteniamo una campagna, come abbiamo detto, del Fasin di Bessoi, sicuramente valida, sicuramente importante, ma però del Fasin di Bessoi perché è rivolta solamente ai cittadini di questa regione che rimangono in regione. C'è una competizione incredibile, parliamo di iniziative che sono state anche presentate, che sono su tutte le varie, non so, le Marche con Nibali per il ciclismo piuttosto che altre regioni, quindi campagne di regione. Io onestamente dico, ma tendo di capire ciò che è stata richiesta, anche una convocazione della Commissione competente con Promoturismo per avere una valutazione delle iniziative, perché la competizione è fortissima e gli strumenti che noi stiamo mettendo in campo o forse cominceremo a vederli ai primi di giugno per il Fasin di Bessoi. Vorremmo capire per il resto, tra l'altro ricordo che il Piemonte addirittura ha avviato l'iniziativa Holiday Working, cioè delle opportunità per Smart Working presso le proprie strutture. Ieri noi abbiamo bocciato il nostro emendamento che voleva avviare un'esperienza di Smart Working. Rimango in attesa. Grazie, grazie.